barcellona d'allenamento riprendiamo il videopartita a Paco contro l'estranea la massa scusami quanto state? 2 a 1 per l'EAM 3 giornata 7K 2010-2011 intercetta bene Marcello Caputi cercherà la sponda Calabate anzi no si rifugia in Zanetti verso l'altra faccia il compagno Walter Ferrante compagni anche nella Sampere Al Pacino e anche questa volta nel Paco sotto porta Walter Ferrante viene ribattuto il tiro poi la mette molto alta al campanile per Carlo Abate che nonostante sia un babbacione di 2 metri e passa non ci arriva Stefano Castro smista verso Walter Ferrante controllato bene dalla difesa degli estranei alla massa spazzano di nuovo una palla altissima numero 17 la controlla ottimamente perfetto aggancio che fa ripartire il 17 alla volta della porta dell'area di rigore avversaria sono sempre gli AM che controllano il gioco d'attacco sotto porta grandissimo intervento di Vincenzo Orlando e possiamo commentare che finora una partita sicuramente molto avviciniamoci vicino a qualche giocatura una partita molto combattuta Abate 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 Scugnamiglio Sica il quartiere Scugnamiglio Come sta andando il primo tempo? Una bella partita 2-1 Sono un po' addominando Equilibrata però eh Hanno fatto un gol fortunoso C'è un calcio di punizione Il quartiere non si è chiamato la parte Chi ha segnato Carlo? No una deviazione mia al partito Non si è capito Di voi chi ha segnato? Ho segnato Barbati Che ha preso anche una grande traversa Per il secondo non mi ricordo Sono concentrato nella partita Ti lascio un po' per la formazione Del secondo tempo Avviciniamoci vicino al leader del palco Carlo Abate Carlo Primo tempo Ma non sono vietato interviste Durante la partita Lo so però essendo che siamo noi Che comandiamo Ok giustamente E il primo tempo Stiamo giocando È una bella partita Perché anche loro giocano a calcio Però Bisogna vedere Bisogna vedere Siamo stati un po' dei gol Ramboleschi Ancora Non si è vista chi merita Cioè il risultato è 2-1 Però per il momento per me è falso Chi ha segnato il vostro gol? Io Tu Sì di tacco l'ho deviato Non è proprio io Però sono l'ultima da averla toccare Vigiliamoci un po' vicino a qualcuno Che conosciamo Mi è che sta lasciando il Manchester Chi è Castro? No caputo Non lo vede Sta voi caputo Come la situazione Brutta Eh non la recuperiamo Vabbè Ci sono altri 25 minuti Ce la potete fare ragazzi Possiamo anche chiudere il collegamento Ringraziamo i gentili spettatori E in bocca al lupo A entrambe le squadre Per la conquista di questi tre punti fondamentali Un saluto da Max E il babbacino è qua Sergio Stanziano Ciao 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 Grazie a tutti Grazie a tutti